Come hanno fatto Diletta Leotta e Chiara Nastia a dimagrire? Romina Carrisi Power, la quarta figlia di Albano Carrisi e Romina Power, si sfoga a nove mesi dal parto confrontando il suo fisico con quello di altre due donne famose. Oggi, domenica 13 ottobre, parlerà a Verissimo di Silvia Tofanini insieme al padre. Chi è? Romina Carrisi è una dei quattro figli, Ilenia, Iari e Christel gli altri tre, di Albano e Romina Power. È nata il primo giugno 1897 a Cellino San Marco Brindisi. La vena artistica dei genitori l'ha coltivata fin da bambina esprimendosi nella fotografia, realizzando diverse mostre fotografiche. Ha fatto diversi lavori tra America e Italia, commessa, fotomodella, pittrice, fotografa e attrice. Insieme al suo partner Stefano Rastelli, Romina Gerre è diventata mamma. Il 24 gennaio alle 22 e 39 è nato Axel Lupo, con un parto naturale che è durato 14 ore. Alla nascita pesava 3 chili e 100 grammi ed era in ottima salute. Fiorello nel suo programma Viva Rai 2 aveva ironizzato sul nome. È nato anche il nipote di Albano. Lo hanno chiamato Axel Lupo. Pensa se incontra Nathan Falco. Mai uno che chiama una figlia Blatta. Ti immagini? Blatta, Blattina. La risposta della madre non si era fatta attendere. Prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto. Sì. Certo. Fiorello, si fa per ridere, ma questo è puro bullismo non sano umorismo. In precedenza Romina aveva sofferto molto per un aborto da lei voluto. Aveva raccontato avverissimo. Penso che un bambino debba avere una madre e un padre. Purtroppo mi è capitato di abortire. Nessuna donna vorrebbe mai farlo. Fu difficile. Ogni donna però deve poter decidere cosa fare del proprio corpo. Non volevo essere madre singole che questo bambino crescesse con il dubbio di un padre. Quindi mi sono trovata anche costretta a dover abortire. Per me era estremamente importante trovare l'uomo giusto. Romina Carresi ha pubblicato uno sfogo su Instagram a nove mesi dal parto. Non entro nei miei jeans. Oggi ho messo un paio di jeans ma non si chiudono e mi chiedo. Diletta le otta o Chiara Nasti come cavolo hanno fatto non solo a rientrare nella taglia che avevano ma ad essere ancora più magre di come erano prima di partorire? Io non mi capacito. Ha poi voluto sensibilizzare relativamente una situazione che si trovano a vivere molte donne. Posso parlare a nome di tantissime donne che hanno partorito e non riescono a perdere questi chili di troppo. Ma il problema vero è che io ho iniziato ad ingrassare dopo aver partorito, perché ho iniziato a mangiare di tutto. Un po' per il baby blues, questa depressione post parto. Quindi mi sono gonfiata. Ma mentre prima era bello perché ero incinta, adesso dico sei grassa. Dopo la relazione con Francesco Gastel, Romina Gerre si è legata sentimentalmente a Stefano Rastelli, uno dei registi di oggi e a un altro giorno. Sempre nel salotto di Silvia Tofanin, Romina aveva così elogiato il suo compagno. Siamo andati a vivere insieme dopo cinque mesi dall'inizio della nostra storia d'amore. Mi sento a mio agio con lui, nonostante le sue imperfezioni per quanto mi riguarda è un uomo perfetto. Lui è una persona presente, lo è sempre. È un uomo che ascolta, che riesce a capirmi anche nei miei silenzi, e per me non c'è dono più grande. Il 53enne lavora nel mondo dello spettacolo come regista. Ha conosciuto Romina durante la direzione di oggi e a un altro giorno. Recentemente ha ricevuto un premio per i servizi realizzati dall'Ucraina in occasione della quindicesima edizione del Festival Internazionale del film Cortotulipani di Seta Nera. In passato aveva avuto due figlie, Emma e Lola, e da un'altra donna. Romina ha attirato i riflettori nel 2005 partecipando all'Isola dei Famosi. Recentemente è stata presente nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Nel 2020 è salita sul palco del concertone di Capodanno in piazza a Potenza insieme ai suoi genitori. In quell'occasione aveva annunciato di aver ritrovato un ottimo rapporto con il papà Albano, dopo anni difficili. Ad oggi, Albano è un punto di riferimento essenziale per la figlia, che più volte lo ha sottolineato anche sul piccolo schermo. I due saranno infatti insieme nello studio.